Uova di Pasqua per i bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale dell'Aquila. E l'iniziativa messa in atto grazie alla CNA e al Milan Club L'Aquila Amici Rossoneri. Come ogni anno la CNA chiaramente vuole dare un sorriso a quelli che sono i bambini ricoverati verso l'ospedale pediatrico che chiaramente per necessità anche sotto il profilo di cura e quant'altro non possono festeggiare la Pasqua. Ecco qui che noi siamo venuti a trovarli chiaramente e a dar loro un po' di gioia perché un uovo di Pasqua è sempre importante la sorpresa, la sorpresa che diciamo allevia un po' spero il dolore. Molta gratitudine per l'iniziativa è stata espressa dalla dirigente della pediatria dell'Aquila Claudia Caloissi. Noi ci teniamo insomma e facciamo del nostro meglio nel nostro piccolo a farli sentire sempre ben accetti in un contesto che sia a misura di bambino nelle cure e in tutto il resto. La dottoressa Caloissio chiaramente ci ha dato la possibilità oggi di poter dare questo messaggio importante e penso che come tutto quanto il reparto possa chiaramente dimostrare come l'importanza di questo reparto sia anche non solo una cura ma anche quello di dare gioia ai bambini che sono soggetti a un aspetto anche temporaneo di quelle che sono le cure ospedaliere perché chiaramente l'ospedale è sempre ospedale. Qua non si ha l'impressione di essere in ospedale chiaramente per l'ambientazione, l'accoglienza e quant'altro è proprio un punto di riferimento dove i bambini potranno tornare a sgambettare diciamo più di prima e magari raggiungendo anche altre positive esperienze anche nell'aspetto della sofferenza. Sia la CNA che il Milan Club hanno voluto mettere in risalto l'importanza dell'aspetto sociale che contraddistingue le loro organizzazioni. Spero che si possa anche instaurare come abbiamo fatto gli altri anni anche altri incontri per significare quello che è l'importanza dell'assistenza al cittadino. La CNA pur essendo una situazione di rappresentanza dell'economia però opera molto sul sociale e questo è un esempio. Buona Pasqua la divulgiamo a tutti quanti, a tutto l'ospedale, a chi si opera fra l'altro. In una realtà diciamo chiaramente qua non è una questione di polemia ma è una questione di indagini statistiche nel senso che il 45% degli italiani purtroppo non riescono a comprare le cure. Questo è il problema grave di una nazione evoluta dove stiamo ormai nel 2019, la settima nazione sotto il profilo di sviluppo economico, sociale e quant'altro. Oggi ci sono queste carenze che purtroppo speriamo che l'aspetto politico cerchi di rappresentare al meglio il cittadino con la verità di quelle che sono poi le esigenze e anche quello che può essere una verità di ricrescere l'economia e il sviluppo del territorio. Visto che siamo molto attivi nel sociale anche con tutti i Milan Club d'Abruzzo insomma quest'anno abbiamo voluto iniziare questa iniziativa che per regalare un sorriso ai piccoli che purtroppo magari non possono festeggiare la Pasqua con i genitori a casa, con i parenti insomma. Ci sembrava giusto e doveroso affrontare questo discorso all'ospedale pediatrico dell'Aquila. Abbiamo iniziato da poco un progetto di ipoterapia per bambini affetti ad autismo in collaborazione con il maneggio che ci ha dato la possibilità appunto di la disponibilità dei cavalli insomma per questi bambini affetti ad autismo. Da un mesetto circa che stiamo inoltrando questo tipo di progetto insomma. Ci occupiamo di sociale perché comunque lo sentiamo nostro. Ripercorriamo quelli che sono diciamo i dettagli e tutto quanto quello che è comunque un fattore che ci contraddistingue e contraddistingue la società a Milan. Siamo stati alla scuola dell'infanzia di Pereturo, abbiamo consegnato ai bambini le uova di Pasqua, erano molto felici, erano molto contenti, erano una ventina di bambini. Gli abbiamo regalato un sorriso e abbiamo regalato il sorriso anche qua all'ospedale. Credo fortemente a tutti i progetti che stiamo realizzando piano piano. Vogliamo ringraziare a nome di tutto il reparto del primario e degli assenti questa bella iniziativa e di questo bel pensiero verso i piccoli bambini che comunque usufruiranno anche se è meglio evitare troppi dolci, ma non sotto Pasqua. Buona Pasqua a tutti e grazie mille. Buona Pasqua.